Sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata numero 40 del 5.11.2012, con scadenza 5.12, è stato pubblicato l'avviso per la nomina del difensore civico della Basilicata. Per sottoporre la propria candidatura occorre, oltre al possesso dei requisiti per elezione a consigliere regionale e del diploma di laurea in discipline giuridiche, essere o essere arrestato professore universitario ordinario in materie giuridiche, magistrato, avvocato dello Stato oppure dirigente nella pubblica amministrazione. Inoltre, nel burro numero 38 del 30.10.2012, con scadenza 29.11, è stato pubblicato l'avviso per la designazione di due componenti nel collegio sindacale dell'azienda sanitaria locale di Matera. Per la candidatura occorre essere iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazie e Giustizia ed avere esercitato tale attività in enti pubblici o società private per almeno tre anni. Il bando, gli schemi per la candidatura e la dichiarazione, sono scaricabili dal sito internet del Consiglio regionale.